Ciao, io sono Elena di Non Una Di Meno Torino. Io sono Daniela di Non Una Di Meno Torino anch'io. Siamo in piazza oggi per il nostro presidio fisso che teniamo tutti i venerdì in piazza Castello. Abbiamo iniziato alcune settimane fa per denunciare e riportare l'attenzione sull'altissimo numero di femminicidi che stiamo vivendo. Vediamo che ormai sulle pagine dei giornali il fenomeno dei femminicidi è relegato a degli articoletti di contorno nelle ultime pagine. Ne succedono così tanti che è diventato quasi una quotidianità. Dall'inizio dell'anno ne abbiamo avuto più di una settimana, la settimana scorsa ce ne sono stati tre. E quindi noi abbiamo deciso di creare questo presidio fisso in modo tale da riportare l'attenzione, da ridare voce alle vittime dei femminicidi e riportare fortissimo il tema della violenza maschile sulle donne e della violenza di genere. Come stava dicendo Elena, oggi siamo qui in piazza in questo momento a Torino per questa iniziativa lanciata da Non Una Di Meno ma per noi è importante anche far sapere che in questo momento anche in tutte le altre città d'Italia in cui è presente la rete di Non Una Di Meno sono stati organizzati degli appuntamenti, delle manifestazioni di piazza in vista dell'8 marzo. Quindi oggi questa per noi è una giornata importante perché è una giornata di lancio dello sciopero. Sciopero che più che mai quest'anno è necessario per la pandemia che stiamo vivendo che è stata messa in luce ancora una volta come non siamo tutti e tutte sulla stessa barca e come questa crisi è scaricata moltissimo sulle donne e questa rete vuole essere uno spazio di presa di parola, di protagonismo e di possibilità di riscatto.